Noemi non è facile perché Noemi ha delle radici molto profonde, quindi sradicare Noemi è stato molto duro, però volevo mettere anche il mio passetto quello qua davanti, ci scontriamo molto spesso con Noemi, ma sono scontri che danno frutti. Tu lo segui, lo guardi un po' snob, perché il giochetto dovrebbe essere Upside Down, you're turning me, lei ti produce un po' con un'attitudine un po' tipo da fighetta, lei si sa volentare un po'. Lei si sente adesso un po' più matura e questa maturità le dà un po' di sicurezza e quindi lavorare con una persona che si sente un po' più sicura adesso dovrebbe essere anche un po' più facile, quindi si è un po' ammorbidita anche negli atteggiamenti Noemi, quindi spero che possiamo fare dei passi anche un po' più grandi insieme.